Smart Garage via Alfonso Balzico 45 nei pressi della sede Ausino a Cava di Tirreni. Resta alta l'attenzione tra il personale dipendente e la Silva S.P.A. come si evince da una nota unitaria diramata da CGL Cisle e Will che hanno deciso di porre all'attenzione di tutti i soci l'attuale situazione. Per quanto i lavoratori abbiano dimostrato nel tempo disponibilità massima schierandosi al fianco dell'azienda in ogni periodo di difficoltà manifestatosi negli anni, a prescindere dalla crisi epidemiologica da Covid-19, si legge nella nota dei sindacati, si stigmatizza che ad oggi la proprietà persevere in comportamenti lesivi delle prerogative dei lavoratori tutti, violando deliberatamente e costantemente il CCNL di categoria, nonché quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione. In primo luogo l'attenzione viene posta dai sindacati su quello che viene definito un cronico ritardo nella corrispensione degli emolumenti mensili da parte della vigente amministrazione. In secondo luogo i sindacati pongono l'accento sulla tavica carenza del personale con particolare riferimento alle figure assistenziali ed ausiliarie, con i conseguenti riflessi negativi per la salute e la salvaguardia dell'ospite. Inoltre viene evidenziato come per far fronte a tale carenza e garantire comunque continuità assistenziale ai reggenti i medici stiano effettuando da febbraio turni con inimmaginabili carichi di lavoro, pari anche a ben 270 ore mensili. Altro aspetto segnalato è la mancanza da circa tre mesi di alcune figure professionali deputate alla mission per cui la struttura è stata accreditata. Nella nota viene inoltre stigmatizzato il fatto che l'azienda non solo non abbia mai provveduto a menzionare nei cedolini le ore accantonate per lavoro supplementario o straordinario, ma anche che non vi sia stata mai alcuna corrispensione di eventuali importi dovuti a titoli di residui orari a credito. Così, anche in considerazione che si è rivelato infruttuoso ogni tentativo di raffreddamento del conflitto, si è giunti alla richiesta ai soci della struttura di verificare ed accertare la particolare criticità della situazione, a cui, secondo i sindacati, si è giunti per responsabilità attribuibili esclusivamente all'amministrazione vigente.